Alexandre Dumas, a metà dell'Ottocento, scrive uno dei romanzi più letti di tutti i tempi, Il conte di Monte Cristo. È la storia di un giovane marinaio accusato ingiustamente che dopo 14 anni di prigionia riesce a evadere grazie a un compagno di sventura, l'abate Faria, e riesce a trovare anche un tesoro nascosto da tempo nell'isola di Monte Cristo. Diventato ricchissimo, si fa passare per il conte di Monte Cristo e si vendica dei suoi accusatori, mandandoli in rovina. La storia si ispira a un fatto vero ed è piena di intrighi, colpi di scena. Ma perché ne parliamo? Perché il tesoro esiste davvero ed è l'isola stessa di Monte Cristo. Uno dei luoghi più protetti e inavvicinabili del Mediterraneo dove i fondali marini hanno conservato la loro bellezza, mentre sull'isola resistono alberi che erano già vivi all'epoca di Dante Alighieri. Ma c'è un problema. Sentiamo Giovanni Carrada che è andato a visitare l'isola per noi con Cristina Scardovi. Siamo sull'isola di Monte Cristo. Il famoso conte di Monte Cristo purtroppo non c'è più. In compenso, qui oggi c'è una riserva naturale dello Stato ed è uno dei luoghi meglio protetti d'Italia. Anche qui però la natura si è intrecciata a lungo con l'uomo e con la storia e nel corso dei millenni insieme hanno creato questo luogo unico. Ma hanno anche creato un problema che non è facile risolvere. I primi uomini che arrivarono qui 7 o 8 mila anni fa videro un'isola in cui il granito si alternava a grandi tratti di foresta sempreverde di leccio. Le cronache ne ricordano ancora alcuni del Settecento. Oggi invece la superficie di Monte Cristo è per due terzi granito e per un terzo macchia accompagnata vicino all'approdo da pini ed eucalipti portati da fuori. Solo in alto sopravvive meno di un centinaio di isolati lecci. Come un po' in tutto il Mediterraneo è il risultato di molti secoli di taglio degli alberi, di incendi e di pascolo delle capre. La capra di Monte Cristo però non è una capra come le altre. Non sappiamo quando sia stata portata qui forse dai cartaginesi o forse dai monaci che sono vissuti sull'isola dai primi secoli del cristianesimo fino al 1553 quando gli ultimi di loro furono catturati come schiavi dal pirata turco Dragut. Ma si tratta di una razza molto simile all'antenato di tutte le capre e l'unica che ancora vive allo stato selvatico. Per questo è protetta dalla legge ed è anzi il simbolo dell'isola. Qui a Monte Cristo però è stata fatta una scoperta molto importante. La vedete questa quercia? È un leccio e proprio di lecci era fatta l'antica foresta di Monte Cristo. Bene, questo qui ha più o meno 800 anni. Non è molto grande perché qui c'è poca acqua e poca terra. Però pensate che quando Dante Alighieri stava scrivendo la Divina Commedia lui era già grandicella. Gli alberi non invecchiano come gli animali e come noi ma resistono finché non vengono tagliati attaccati da una malattia abbattuti dal vento o colpiti da un fulmine. Sei degli ultimi lecci di Monte Cristo sono stati di recente studiati da ricercatori dell'Università della Tuscia che hanno prelevato dei campioni dal cavo interno per datarli con il radiocarbonio grazie a una collaborazione con l'Università del Salento. Così hanno potuto scoprire che quest'albero ha almeno 800 anni e fra gli altri se ne potranno benissimo scoprire di ancora più vecchi. Qui a Monte Cristo abbiamo trovato i lecci più antichi del Mediterraneo. Questi antichi alberi fruttificano ma c'è un problema. che queste piantine che nascono vengono morse dalle capre e quindi noi dobbiamo intervenire per aiutare il leccio di Monte Cristo ad avere un futuro. L'isola è oggi affidata alle cure del reparto carabinieri Biodiversità di Follonica gli eredi del Corpo Forestale dello Stato che sta lavorando al ripristino degli habitat. Per questo, oltre al controllo e al monitoraggio della flora e della fauna collabora con diverse università con l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale con il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Fra gli interventi più importanti degli ultimi anni c'è stata la lotta alle specie aliene che ha portato ad esempio all'eradicazione totale del ratto nero che stava distruggendo le colonie degli uccelli e al controllo dell'alianto, un albero esotico e invasivo. Ma la sfida cruciale comincia adesso. La gestione della riserva statale Isola di Monte Cristo è difficile. Si tratta di riuscire a far coesistere la conservazione della popolazione di capra selvatica con la tutela della vegetazione e soprattutto dei lecci di Monte Cristo. Esiste per questo un piano per la gestione della capra che prevede la riduzione del numero degli esemplari sull'isola. D'altra parte, nei secoli, la popolazione di capra ha sempre subito la caccia e questo ha consentito di fatto una coesistenza fra i sistemi vegetali dell'isola e la stessa popolazione di capra selvatica. I carabinieri hanno già realizzato delle recinzioni fra macchia quasi impenetrabile e i massi di granito per tenere fuori le capre e proteggere alcune aree in cui la vegetazione naturale possa ricominciare a crescere indisturbata. Hanno raccolto la ghianda dagli alberi per produrre piantine da mettere a dimora a Monte Cristo sempre in aree recintate ma anche da conservare presso un vivaio sul continente per avere comunque una riserva di piante originarie qualsiasi cosa succeda sull'isola. Un compito difficile è anche il semplice conteggio delle capre su un terreno così poco accessibile per sapere quante se ne dovrebbero portare via e ben più difficile sarà la cattura ma il lavoro è già cominciato. Quando riusciremo a trovare il giusto equilibrio tra capra selvatica e vegetazione la foresta si riprenderà a gran parte dell'isola e con questa aumenteranno le piante e gli animali in poche parole avremo un ecosistema con più biodiversità capace di rispondere meglio a cambiamenti climatici. Quel giorno Monte Cristo assomiglierà a quella che videro i suoi primi colonizzatori. non c'è un'altra isola così senza nessuno questo potrebbe diventare l'unico posto davvero selvaggio di tutto il Mediterraneo. Monte Cristo però ci ricorda anche una cosa che è vera un po' di tutti i nostri problemi ambientali se fossero semplici forse li avremmo già risolti. a un'altra isola